Arrivati a Pisa, sali e salvi. Tre russi uccisi a porte dei mani per arrivare in tempo. È stata una dura battaglia, visto anche un po' il tempo e tutto quanto, ma siamo arrivati. Oltretutto è forte per fortuna perché era in ritardo e è stato annullato il controllo orario, perché è bene così dai. Sensazioni sulle prove? Fantastiche, belle tirate, soprattutto quelle sotto la pioggia e mezzo la nebbia. Assolutamente, sì, pioggia, nebbia, vento che ha preso di tutto, prove belle. Sì sì, devo dire, come sempre, una manifestazione di alto livello, assolutamente.